1 maggio 2022, ragazzi, la festa del lavoro che purtroppo manca sempre di più ma deve comunque rappresentare un valore fondante della nostra comunità anche se l'andazzo non è dei migliori perché anche a livello europeo, vi anticipo che si sta parlando molto di istituire il cosiddetto reddito di base, dare un garantino un reddito minimo a tutti perché la novità del reddito di cittadinanza in Italia non è stata certamente una novità a livello europeo, sono sussidi che per esempio in Inghilterra esistevano, mi ricordo addirittura già dagli anni 80, dai lontanissimi anni 80, io ho avuto amici che sui 20 anni se ne sono partiti, se ne sono andati in Inghilterra e hanno beneficiato anche di questi sussidi prima di trovare lavoro, quindi non ci dobbiamo poi meravigliare più di tanto se l'andazzo è questo perché il livello di piena occupazione, come dicono gli economisti, è un'utopia, non avremo mai una società dove tutti contemporaneamente sono al lavoro, quindi ci sarà sempre qualche categoria che soffre anche tanto, ci sarà sempre una minoranza che soffre anche tanto, se riusciamo a dare un reddito minimo a tutti, campiamo tutti meglio, io ho vissuto qualche anno a Trento, anche lì che è provincia autonoma c'è l'assegno unico, anche lì si garantisce un reddito minimo per i cittadini residenti da alcuni anni nella regione, quindi l'andazzo è un po' questo, in tutto questo contesto la festa dei lavoratori è diventata un po' triste, non ha più i contenuti che aveva fino a 20-30 anni fa, perché il lavoro è sempre più precario e i contratti sono sempre più stagionali, a progetto, a tempo eccetera eccetera eccetera, la scertezza che dava un posto di lavoro a un padre di famiglia che hanno avuto i nostri padri, i nostri nonni, oggi ce la possiamo soltanto sognare, si perde anche con facilità il lavoro, quindi in realtà anche un contratto a tempo indeterminato non ti mette a riparo, non ti mette a riparo dai problemi, alla fine quelli che sono più privilegiati di tutti sono sempre gli statali che comunque difficilmente perdono il posto, al massimo vengono trasferiti. Detto questo avrete visto nei precedenti video che ieri è stata una giornata particolare per me, perché ho avuto la gioia e l'emozione di vivere un'esperienza che sinceramente nella vita non pensavo avrei mai vissuto, cioè di salire sulla caravella Santa Maria di Colombo, di Cristoforo Colombo, naturalmente non l'originale ma su una riproduzione perfettamente identica, proprio fedele. Io sto vivendo a Genova che è la città di Colombo e quando voi arrivate alla stazione di Genova, come uscire dalla stazione, c'è una salita dopo il monumento ai caduti che è subito davanti alla stazione che con i fiori riproduce le tre caravelle. Lì vicino c'è anche la casa di Cristoforo Colombo che secondo alcuni non è proprio quella, però insomma simbolicamente viene visitata quella e ieri appunto al Porto Antico era, come si dice, parcheggiata, era ormeggiata questa nave, un museo galleggiante in sostanza, che riproduce fedelmente questa caravella, è stata costruita da poco dalla Fondation Now Victoria per il 525esimo anniversario dell'incontro tra i due mondi, la scoperta per la verità un po' casuale e fortunata delle Americhe, che io dico sempre per tanti motivi in realtà forse non avessero scoperto era meglio e se avete dei dubbi andate a chiedere ai discendenti dei nativi americani che in quel territorio abitavano da un sacco di tempo in modo pacifico e sono stati spacciati via, però del resto questo continente o prima o poi qualcuno l'avrebbe scoperto, quindi non ce la possiamo neanche tanto prendere con chi l'ha scoperto, ma bensì con chi ha cercato poi di trarne solo profitto a scapito appunto di queste popolazioni, qualcosa che io non smetterò mai di condannare. Questa caravella peta 200 tonnellate, è lunga 29 metri, larga 8, ha 4 alberi, 5 vele, 5 ponti, costruita in legno di Iroco e Abete, dai maestri carpentieri che con grande abilità l'hanno riprodotta e questa nave praticamente è stata solo quattro giorni, oggi è l'ultimo giorno che c'è, che c'è qualche giorno all'ascolto, farà ancora in tempo ad andarla a vedere dalle 10 alle 20, è proprio davanti ai magazzini del cotone, dove tra l'altro c'è una bellissima esposizione, anche oggi dedicata, ho messo anche il video di questo, ai minerali, intostante, un'esposizione di vari minerali molto carina. Poi questa nave si sposterà verso altri porti, altre città e sarà possibile, non solo italiane, si gira un po' in tutto il mondo, in America, in Spagna naturalmente, eccetera, e quindi sarà, è stata un'emozione sinceramente trovarmi là sopra, perché tra l'altro ti rendi conto che 30 metri di lunghezza poi in realtà non sono così tanti e commentavo con altri visitatori, voi ci salireste su una nave del genere di legno per solcare l'Atlantico? È vero che erano tre le navi, quindi è vero che una faceva da deposito, però io ho pensato, se affonda una ce ne sono altri due, però una tempesta in realtà avrebbe potuto sorprendere tutte e tre, affondare tutte e tre, quindi i rischi, secondo me, sono stati, per me, sono stati altissimi. Questa persona, che non era tutt'altro che scemo, mi diceva, ma tu sei sicuro che le tecnologie moderne siano veramente più efficaci e migliori di quelle dell'epoca? Ma io direi di sì, io penso proprio di sì, certo, incidenti ci sono ancora, ma vi garantisco che stare sopra la caravella Santa Maria tutta al legno non mi dava una sensazione di grande sicurezza, ecco, penso che sia stato, ritengo veramente, non da esperto, ma che sia stato un viaggio veramente molto rischioso, molto rischioso, alla fine il coraggio di questi uomini è stato premiato con un risultato che viene ricordato a distanza di centinaia e centinaia di anni e sarà, il 1492 sarà sempre una giornata storica per l'uomo, perché è stato scoperto un continente, quindi una cosa veramente molto particolare, ha cambiato completamente non solo il corso della storia, ma anche della geografia, se volete dire. Ora, torniamo a parlare di calcio, rimanendo a Genova, perché ieri sera, come sapete, c'è stato il derby della Lanterna, Sampdoria a Genova, finito con la vittoria dei Bruciacchiati per 1-0 grazie alla rete di Sabiri, una partita sentitissima, c'era tutta la città piena in centro di gente con le magliette o del Genova o della Sampdoria, devo dire che qui il tifo è molto civile, almeno da quello che vedo io non ci sono troppi eccessi, c'è tutta una battaglia a colpi di murales, muri che vengono colorati con i colori societari, c'è una bella rivalità sana, ricorda molto quella di Roma e Lazio, ma senza gli eccessi che a volte ci sono a Roma, mi sembra un po' più tranquilla la situazione, ma la partita era sentitissima perché valeva la Serie A quest'anno, io ero convinto che sarebbe finita in parità, perché tutto sommato il pareggio, visto che il Cagliari aveva perso, clamorosamente in casa da un Verona che d'altra parte si sta giocando tutte le sue carte per entrare in Europa League ed è una squadra, una bella squadra a Verona quest'anno, mi sa qualcosa proprio la Roma che a Verona ha perso, pensavo che un pareggio tutto sommato lasciasse in vita entrambe e che soprattutto alla Sampdoria potesse andare molto bene, visto appunto che Cagliari aveva perso, anche se poi, adesso rivedendo meglio la classifica, ho scoperto che la Salernità nel Venezia hanno ancora due partite in meno, una verrà giocata oggi naturalmente, ma c'è Juventus Venezia e Atalanta Salernitana, sono due partite difficilissime, anche l'Atalanta è impegnata naturalmente a cercare di rientrare in Europa League, come sta facendo la Lazio che ieri proprio in zona Cesarina è riuscita a battere in casa all'Ospezia la terza Ligure che sta cercando di salvarsi faticosamente, con un gol proprio di Acermi che era stato tanto criticato per l'errore clamoroso che aveva, clamoroso, si aveva fatto una bella cacciata in effetti contro il Milan, quando ha sbagliato sostanzialmente un rinvio di testa proprio negli ultimi minuti consegnando la palla a Ibrahimovic che ha fornito l'assist vittoria per Tonali, un gol che peserà tantissimo secondo me alla fine di questo campionato. Ha segnato a Cerbi, la Lazio ha vinto 3 a 4, un risultato molto insolito e ha scavaccato la Roma come vedremo poi in classifica, ma prima parliamo di questo derby con la Sampdoria in vantaggio, al minuto 96, io stavo qui a Cata in un quartiere molto lontano da Marassi, ma veramente molto, e si è sentito un boato incredibile in lontananza, ma io però ho detto, ma non stavo seguendo la partita, ho detto, ma questo però non è un gol, non è l'urlo di un gol, sapevo che la Sampdoria stava vincendo, forse è il boato della partita finita, ho guardato l'orologio, mi sono fatto due conti e ho detto, forse è il boato dei tifosi Sampdoria per la fischio finale, però mi sembrava un po' eccessivo, oppure un gol sbagliato proprio davanti alla porta, uno che ha tirato fuori. In realtà si trattava di un rigore, un rigore concesso al minuto 96, che avrebbe dato il pareggio al Genoa, sul dischetto si è portato Capitan Criscito, o Criscito non ho mai capito come si dice, giocatore molto esperto, rigorista, mancino, che purtroppo si è fatto ipnotizzare da Udero, il portiere della Samp, e con il suo sinistro si è fatto parare il tiro al 96esimo, concludendo la partita in lacrime, consolato tra l'altro, vorrei sottolinearlo proprio dal portiere bruciacchiato, che è stato un gesto molto carino, è crollato il mondo addosso a Criscito, ho rivisto tantissimi anni fa, dovete sapere il Genoa che retrocesse in serie B, perché Roberto Prutto sbagliò un rigore decisivo, pensate, Roberto Prutto che all'epoca giocava nel Genoa come a rimanere alla Roma, e il Genoa andò in serie B, è qualcosa che il bomber ricorda sempre, è una cosa che gli è rimasta sullo stomaco, perché poi lui è di Croce Fieschi, un paesino che è in provincia di Genova, quindi è forse anche quello che lo ha emozionato troppo, tra l'altro Prutto rigorista implacabile, basta andarsi a vedere i rigori che ha calciato con la Roma, è un grande rigorista Prutto, spiacciava quasi sempre il portiere, e sbagliò, sbagliò perché? Perché purtroppo i rigori si sbagliano, e se non ne siete convinti andatevi a vedere il mio video dove menziono tutti i rigori che ha sbagliato un mostro sacro, uno specialista come Francesco Totti, che sono stati veramente più di quelli che pensate, poi vi metterò il link sotto questo questo video in modo che ve li rivedete nella mia descrizione, e prima di affinare perfettamente la sua tecnica di calcio, Totti sbagliò un po' di rigori, c'era Spalletti allenatore, e poi ad un certo punto disse, basta, io non voglio sbagliare più, tiro sempre fortissimo, angolatissimo sulla destra del portiere, non la prendevano praticamente mai, perché non c'è il tempo di scendere, di arrivare in quell'angolo, e Totti è diventato veramente un maestro, ma i rigori si sbagliano, ricorderemo sempre il rigore che ha sbagliato Baggio, mondiale del 94, cioè che noi consideravamo un fenomeno, perché lo era, e che aveva trascinato letteralmente la squadra a quella finale contro il Brasile, e purtroppo tutti ricordano il rigore di Baggio, ma in realtà in quella serie hanno sbagliato anche Franco Baresi e Daniele Massaro, ma non se lo ricorda mai nessuno, perché quando andò Baggio sul dischetto, tutti abbiamo pensato, vabbè, Baggio, che vuole che sbaglia, è l'unico che siamo sicuri che segna, invece ha sbagliato, è così, è sfumato col mondiale, perché i rigori si sbagliano, pochi video fa ho parlato di Roma-Liverpool, che a distanza di tutti questi anni, dall'84, siamo nel 2022, io ancora me li vado a rivedere queste serie di rigori per capire come è stato possibile che Bruno Conti, che uno come Bruno Conti sbaglia il rigore in finale della Coppa dei Campioni, finché sbaglia Graziani, ci posso pure stare, ma Bruno Conti sinceramente non me lo sarei mai aspettato, perché i rigori sono qualcosa che quando uno va a tirare un rigore, è importante, tu devi solamente dire grazie e battere le mani comunque vada, perché è un fondamentale che è soggetto a tante variabili, a tante piccole variabili e basta veramente poco per sbagliare, quindi se non c'è un'abitudine continua a calciarli, eccetera, si possono sbagliare, si spesso, a volte li sbaglia anche chi è un rigorista, perché Crescito è un rigorista, quindi io, a Crescito, il rigore probabilmente costerà la Serie A al Genoa, purtroppo è così, però a Crescito io dico che lui deve essere fiero di essere andato come capitano a calciare questo rigore al minuto 96 in un derby così sentito, era praticamente la battita più importante della stagione, anche per la rivalità tra le due squadre, perché lui ha fatto il dovere suo e si è guadagnato fino in fondo lo stipendio che gli arriva a fine mese, ha fatto quello che doveva fare, ha fatto il suo dovere, il rigore come è stato tirato? È stato tirato sulla destra di Audero, Audero non è stato spiacciato e lui probabilmente pensava di spiacciarlo e ha intuito e non era proprio angolatissimo, non era proprio forte, ha tirato un po' a mezzo e mezzo, gli è mancato un po' di quella convinzione, quella cattiveria, perché giustamente era un rigore importantissimo, quel pallone pesava tonnellate, pesava tonnellate e tutto questo si è visto nel momento dell'esecuzione che è come se lui avesse voluto essere sicuro di mettere il pallone nello specchio della porta, ecco io ho avuto questa sensazione qui, abbia avuto paura di metterla fuori, cioè voglio essere sicuro di prendere lo specchio, magari la dino un po' meno angolata, d'altra parte lì è stato bravo anche il portiere, certo, poverino, è anche a fine carriera e quindi questo rigore sbagliato, cioè sarà sempre ricordato Criscito come quello che ha sbagliato il rigore decisivo in un Sampdoria-Gena ha vinto dalla Sampdoria con il Genoa che può andare in Serie B, purtroppo l'unica cosa, ecco oggi, rivedendo la classifica come tifoto della Roma, vedere che abbiamo lasciato cinque punti tra Venezia e Genoa, mi dispiace perché sono due squadre che ci sono molto inferiori, abbiamo avuto la sfortuna di incontrarle in un momento che il Venezia andava a mille, il Genoa appena cambiato allenatore c'era grande entusiasmo, stavano facendo dei risultati positivi, se avessimo incontrato il Genoa di Sevcenco avremmo vinto con facilità allo Stadio Olimpico, arrivato intanto a leggere i risultati di ieri, Caglia-Riverona 1-2, Napoli-Sassuolo 6-1, Sampdoria-Gena 1-0, Spezia-Lazio 3-4, oggi ci sono Juve-Venezia, Milan-Fiorentina, Empoli-Torino, Udinese-Inter, Roma-Bologna, Atalanta, tra oggi e domani, Atalanta-Salernitana, il 5 maggio c'è anche recupero, Salernitana-Venezia, che è una partita, veramente uno spareggio per rimanere in Serie A, la classifica vede il Milan a 74 che deve giocare ancora, l'Inter a 72, meno 1 anche lui, di partite, Napoli 70, tanti rimpianti del Napoli e quest'anno ha letteralmente buttato via lo scudetto, il Napoli è una squadra, una bella squadra, ha perso qualcosa con la Coppa d'Africa perché qualche giocatore ci ha messo un po' per recuperare gli africani che erano andati a giocare in Coppa d'Africa, come ogni anno accade, e poi nel finale di stagione non si riesce a capire cosa è successo, hanno perso un po' di concentrazione, non hanno saputo approfittare dei punti persi, dei passaggi a vuoto fatti registrare sia dal Milan che dall'Inter in queste ultime settimane, ma vedendo la classifica, vedendo come giocano queste squadre, anche il 6 a 1 di ieri con il Sassuolo ha confermato che il Napoli poteva veramente aspirare allo scudetto, ma comunque non è ancora detta l'ultima parola perché questo è un campionato stranissimo e che le sorprese sono possibili, ancora. Juventus 66, meno 1, Lazio 59, Roma 58, meno 1, Fiorentina 56, meno 1, Atalanta 55, meno 1, come vedete anche la lotta per l'Europa League è ancora interessantissima, Verona 52, Sassuolo 46, Torino 44, meno 1, queste sono squadre già salve, Udinese 43, meno 1, Bologna 42, meno 1, Empoli 37, meno 1, credo che l'Empoli non sia ancora matematicamente salvo, ma credo che basti ormai un punto, poi zona calda, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, la sconfitta di ieri del Cagliari è una sconfitta veramente sanguinosa, Salernitana 25, meno 2, Genoa 25, Venezia 22, con meno 2 gare, anche il Venezia, che credo che non abbia molte possibilità a questo punto di rimanere in Serie A, vediamo un po' se trovo quello che sto cercando, ragazzi, è una lotta per restare in Serie A, veramente interessantissima, diventata quasi più interessante della lotta per lo scudetto, vediamo un po' il calendario, allora, delle squadre ancora coinvolte nella retrocessione, nel rischio retrocessione, partiamo dall'Empoli, seguendo l'ordine di classifica, Empoli-Torino, Inter-Empoli, Empoli-Salernitana, Atalanta-Empoli, io penso che non ci dovrebbero essere troppi problemi a fare, credo che a forza con dei risultati favorevoli sia già salvo l'Empoli, però con dei risultati favorevoli, Genoa invece, dunque, il Cagliari, c'è Cagliari-Verona, no, Cagliari-Verona è stata giocata e ha vinto il Verona, poi c'è Salernitana-Cagliari, ammazza, ragazzi, Cagliari-Inter-Venezia-Cagliari, certo, se il Venezia non fosse ancora matematicamente in retrocesso, l'ultima partita sarebbe una partita drammatica, proprio, anche questo è uno spareggio, comunque, Salernitana-Cagliari, Venezia-Cagliari e Cagliari-Inter, è chiaro che sono tre partite difficilissime, quindi Cagliari-Rissia. Per quanto riguarda la Sampdoria, c'è Lazio-Sampdoria, Sampdoria-Fiorentina e Inter-Sampdoria, quindi, anche la Sampdoria, penso che si salverà con la Fiorentina vincendo, forse, comunque, Inter-Sampdoria si perde, Lazio-Sampdoria si rischia seriamente di perdere, anche perché la Sampdoria, fuori casa, non è assolutamente una squadra forte, prende un sacco di gol, e se ieri non avesse vinto, io non lo so come finiva il campionato della Sampdoria. Spezia c'è, Spezia-Atalanta, Udinese-Spezia, Spezia-Napoli, anche lo Spezia, farà molta fatica, molta fatica. Poi c'è Salernitana, oggi c'è Atalanta-Salernitana, Salernitana-Cagliari, Empoli-Salernitana-Salernitana-Udinese, io credo che la Salernitana si stia mettendo molto bene per la Salernitana, anche perché c'è il recupero, Salernitana-Venezia, quindi ha anche una partita in più da giocare, io penso che tra Salernitana-Venezia, Salernitana-Cagliari e Salernitana-Udinese, l'Empoli alla penultima dovrebbe essere già matematicamente salvo, io credo proprio che la Salernitana a questo punto, con questo morale a mille, si salverà. Ed è veramente una grandissima sorpresa questa. Il Genoa c'è, Genoa-Juventus, Napoli-Genoa, Genoa-Bologna. Genoa-Juventus credo che non ci sia veramente niente da fare. Ipotizziamo all'ultima di campionato tre punti, visto che comunque il Bologna non aveva più obiettivi, prendiamo questi tre punti, ma la penultima è Napoli-Genoa, che io sinceramente non lo so se il Napoli lascerà punti. Quindi credo che il Genoa-Juventus, non credo che il Genoa, visto come gioca, abbia possibilità, perché è una squadra che ha una serività offensiva che raramente ricordo. A volte tirano proprio in modo veletario, si vede proprio che poi si sono fissati un po' con Ecuban, che secondo me come centravanti non è molto adatto per la Serie A, un po' così. È uno che corre-corre, ma stringe sempre poco, e segna anche molto poco. Poi c'è il Venezia. Venezia c'è Salernitana-Venezia da giocare, che è recupero. Juventus-Venezia che si gioca oggi, il recupero che si gioca il 5 maggio, Venezia-Bologna, dove il Venezia può sperare, secondo me, Roma-Venezia, che non credo che... E poi Venezia-Cagliari all'ultima di campionato. In realtà, tutto sommato, il Venezia in queste ultime cinque partite deve incontrare Salernitana, Bologna e Cagliari in casa. Quindi qualche speranziella in realtà c'è. Ma io penso che, visto il quadro generale della situazione con una classifica che vi ricordo nelle ultime posizioni, vede Sampdoria-Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana 25 e meno due partite, Genoa 25, Venezia 22 e meno due partite. Io credo che ci sarà, in queste tre gare, che mancano più qualche recupero. In queste squadre ci sarà una sorpresa, ci sarà una partita che non andrà come uno si aspetta, o in senso positivo o in senso negativo, e quella partita indirizzerà, o quelle partite indirizzeranno molto l'ecito finale di questa retrocessione che al momento è veramente ingarbugliata. L'unica cosa chiara è che la Salernitana è la squadra più in salute. Nelle ultime settimane tre vittorie, grandi prestazioni, però attenzione perché c'è un modo di dire nel mondo del biliardo. Partita, delle boccette in particolare, partita ripresa, non fu mai vinta. Cioè spesso le squadre che arrivano da dietro, diciamo, che stanno rimontando, proprio perché hanno profuso e consumato tante energie psichiche e fisiche, arrivano poi al dunque scariche vuote, un po' stanche, e rischiano poi, magari perdendo l'ultima partita, di compromettere tutto quello che di buono hanno fatto in questa lunga rincorsa. È un qualcosa che abbiamo imparato molto bene noi tifosi della Roma in occasione della famosa partita Roma-Lecce, mi pare che fosse l'86, la Roma di Ericsson aveva recuperato un sacco di punti alla Juve, arrivò questa partita per penultima gara di campionato con Lecce e già matematicamente retrocesso, la Roma era un po' scarica, ha un po' sottovalutato l'avversario e finì 2-3 con uno dei risultati, penso, più clamorosi e imprevedibili della storia del nostro campionato, perché voi capite, una squadra che sta andando a vincere lo scudetto, gioca in casa con una squadra che è già retrocessa, che aveva fatto pochi punti, che è una squadra che segnava anche poco, una squadra piuttosto anche modesta, tranne 2-3 giocatori, nessuno avrebbe scommesso un euro o una lira che all'epoca c'erano le lie sulla vittoria del Lecce, ma il calcio è bello per questo, come diceva mio padre, lui diceva, il segreto del calcio è che ogni partita fa storia a sé, ogni partita è diversa dalle altre, tu sai, quando vai a una partita, non sai mai quello che ti può succedere qualsiasi cosa, anche che al primo minuto viene espulso il portiere, c'è un rigore per l'altra squadra che segna, sulle proteste successive viene espulso un altro giocatore, uno gioca 89 minuti in 9 uomini contro 11, può succedere qualsiasi cosa nel calcio, è quello il bello, è quello che rende le partite così interessanti e così imprevedibili, perché basta un episodio, oggi poi con la varra tante cose non sfuggono, perché per esempio il fallo di mano ieri sul calcio di rigore dato al Genoa è un fallo che a velocità normale poteva anche non essere visto, tant'è vero che lo stesso centravanti destro che stava contrastando il difensore della Tandori ha chiesto il calcio d'angolo perché ha visto solo la palla che andava deviata dal difensore verso il calcio d'angolo, solo con la varra ha visto il fallo di mano, quindi gli episodi, oggi veramente le palle inattive, queste cose qua, cambiano la storia delle partite, la storia dei campionati e penso che sia quello che succederà in queste ultime gare per la donna di processione, ci sarà qualche partita con un risultato a sorpresa di squadre che veramente stanno dando l'anima per salvarci, che altererà gli equilibri, che altererà gli equilibri e vedremo un po' come andrà a finire, è un campionato interessantissimo e adesso l'appuntamento quindi è per queste partite che ci attendono tra oggi e domani, che sono, ve le vado a rileggere, Juventus-Venezia che si gioca alle 12.30, Milan-Fiorentina, partita bellissima, Empoli-Torino-Udinese-Inter, attenzione all'Udinese che è una squadra che sta giocando benissimo ultimamente, è una delle squadre più in forma, attenzione, Roma-Bologna-Atalanta-Salernitana e poi il 5 maggio recupero Salernitana-Venezia. Buona domenica a tutti, vi ringrazio per l'attenzione e nei commenti vi metto il link sulla storia di tutti i rigori sbagliati da Francesco Totti, incredibile ma vero, mi sono meravigliato pure io di tutti questi rigori sbagliati, perché non me li ricordavo neanche io, che pure seguivo la Roma continuamente, perché si tende sempre a ricordare il capitano come un rigorista infallibile, perché è questo che era diventato, ma c'è stato un momento nel quale anche Totti sbagliava i rigori. Buona domenica a tutti.